Voglio raccontarvi la storia, la misteriosa storia dell'ospedale Galliera. Tempo fa ci sono arrivate delle segnalazioni sul possibile uso improprio dell'auto blu da parte del presidente dell'ospedale Galliera. Quindi noi abbiamo fatto un accesso agli atti per verificare tutte le voci di bilancio, tutti gli spostamenti, le date relative all'utilizzo dell'auto blu. Perché l'ospedale Galliera, nonostante sia privato, sia gestito dalla curia, svolge una funzione pubblica e utilizza soldi pubblici, proprio quelli che arrivano dalla regione. E quindi come consigliere regionale io ho diritto e dovere di vigilanza sull'utilizzo di questi soldi. Però il presidente, proprio che sarebbe la parte interessata dell'ospedale Galliera, mi ha risposto molto cortesemente dicendo che in realtà non avevo diritto a tutte queste informazioni perché l'ospedale Galliera è un ente privato. E quindi di fatto dall'ospedale Galliera è arrivato un diniego di accesso agli atti per verificare appunto come fosse speso il bilancio a certe particolari voci. Allora, dopo questo diniego abbiamo fatto un ricorso al TAR. Abbiamo chiesto al TAR che intimasse all'ospedale Galliera di svolgere la sua funzione e di farci accedere, farci vedere in tutta trasparenza come vengono utilizzati i soldi pubblici che arrivano dalla regione. Il TAR ci ha dato ragione. Abbiamo vinto il ricorso al TAR. C'è stata una sentenza che spiegava che sì, l'ospedale Galliera deve a tutti gli effetti far sapere ai consiglieri regionali nel pieno svolgimento della loro funzione di vigilanza quali sono tutte le voci di bilancio eccetera e quindi renderci note le carte. Allora ho fatto richiesta, ho mandato la lettera per ottenere finalmente questi dati perché nel momento in cui c'è stata la sentenza al TAR l'ospedale Galliera ha 30 giorni di tempo per produrre questi documenti. Ebbene, cosa è successo? Oggi è arrivato un appello al Consiglio di Stato da parte dell'ospedale Galliera che quindi non si arrende, nonostante già ci sia una sentenza del TAR favorevole a noi che spiega che l'ospedale effettivamente deve rendere note queste carte l'ospedale Galliera pervicacemente vuole negarci l'accesso a questi dati di bilancio e si appella al Consiglio di Stato. Ora, viene da chiedersi ma cosa ci sarà mai in queste voci di bilancio che l'ospedale Galliera a tutti i costi non vuole rendere note e non vuole dare a un consigliere regionale che nel pieno espletamento della sua funzione di vigilanza pubblica sui fondi della Regione non vuole lasciare questo accesso. Allora viene da pensare anche ad un'altra cosa perché come saprete, come dovreste sapere i soldi pubblici di provenienza per lo più regionale, quindi sempre dalla Regione che verrebbero investiti nel progetto del nuovo Galliera che è un'altra cosa, cioè da una parte c'è l'utilizzo improprio dell'auto blu da verificare ma se non ci danno i dati non possiamo verificarlo e dall'altra parte c'è questo misterioso progetto del nuovo Galliera. Misterioso perché? Misterioso perché a tutt'oggi, nonostante se ne parli da dieci anni almeno non esiste un piano economico finanziario. Allora facciamo il collegamento perché nell'ultima settimana la Giunta Doria, cioè l'attuale sindaco Marco Doria di Genova uscente, perché sta finendo la sua legislatura, si è affrettato in fretta e furia ad approvare un accordo di programma per avallare questo progetto del nuovo Galliera firmando subito senza consultare il Consiglio Comunale quindi la Giunta da sola ha deciso, ha fatto disfatto e senza visionare il piano economico finanziario perché non c'è! Eppure i soldi che servirebbero per quel dispendiosissimo progetto del nuovo Galliera sono per lo più di provenienza pubblica in particolare provengono appunto dalla Regione e quel che è peggio è che quei soldi erano destinati storicamente destinati dalle precedenti giunte regionali a costruire o ristrutturare finalmente l'ospedale del ponente genovese dove manca l'ospedale e invece questi vogliono fare questa ricostruzione buttando giù dei padiglioni ancora nuovi perfettamente funzionanti che sono stati ristrutturati recentemente con soldi pubblici li vogliono demolire per ricostruire un ospedale che di fatto è più piccolo di quello attuale cioè con molti meno posti letto di fatto la metà di quelli che servirebbero nella zona e a noi pare che si tratti di un'operazione immobiliare perché l'intenzione per rientrare di tutte queste spese è di creare da questo meraviglioso lascito della Duchessa di Galliera una benefattrice dell'Ottocento che aveva lasciato queste ville a uso appunto per un ospedale per i poveri vogliono invece utilizzare una parte di queste strutture per fare degli appartamenti di lusso da vendere e quindi far rientrare queste spese con i soldi pubblici però nostri quindi vendendo quegli appartamenti di lusso chi è che ne beneficia? non i cittadini mi sembra allora il dubbio che sorge è ma perché c'è tutta questa fretta da parte di Doria di approvare pur senza il piano economico finanziario perché pare oltretutto che quei progetti di piano economico finanziario in passato proposti avevano nelle premesse da parte di chi è stato incaricato professionalmente di redigerlo tutta una specie di messa di mani avanti nel dire però non possiamo garantire che il piano economico finanziario si regga su da solo vabbè questi sono dei dettagli che ci danno un pochino il quadro della situazione allora viene da chiedersi ma perché tutta questa fretta e perché la giunta Doria farebbe questa scelta che di fatto poi va a ricadere sulla giunta successiva e come mai contemporaneamente e contestualmente vengono negati gli accessi agli atti di queste voci di bilancio al Movimento 5 Stelle ma non sarà che ottenendo queste carte ottenendo questi dati verrebbe fuori qualcos'altro magari qualcos'altro oltre a questo discorso dell'uso utilizzo improprio dell'auto blu magari relativa a tutti i soldi che sono comunque già stati spesi sempre soldi pubblici in questi ultimi dieci anni per il progetto del nuovo Galliera questo misterioso senza piano economico finanziario perché ci risulta che siano già stati spesi almeno 10 milioni di euro va bene l'ospedale Galliera si trincera fa appello al Consiglio di Stato bene noi non ci fermiamo più qui noi vogliamo chiarezza per la cittadinanza noi vogliamo trasparenza e soprattutto vogliamo che i soldi che sono stati stanziati per una zona della città che è sprovvista di strutture sanitarie sufficienti come dalla legge nazionale è previsto vengono utilizzati per quello scopo e non per altro quindi andremo fino in fondo e faremo chiarezza e faremo sapere ai cittadini come vengono utilizzati i nostri soldi grazie a tutti